Oggi facciamo frittelle di bianchetti, ok? Questo è bianchetti, 200 grammi. Due uova, quattro cucchiai di farina, persemelo, un po' di sale e formaggio grattugiato. Acqua gasata, anche può usare levito. Acqua gasata, anche può usare levito. Acqua gasata, anche può usare levito. Quattro cucchiai di farina. Metterebbe caipampi di catarai. Un po' di sale. Lunutica. Un po' di pezzemelo. Paschicola. E un po' di frutta. Ciscola. Adesso mischiamo bene. Acqua gasata. Può mettere anche levito, però io metto gasata. Per levitare. Facilissimo questo. Per levitare. adesso cominciamo a friggere 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 adesso cominciamo a friggere